E andiamo cavolo, e andiamo, un'altra vittoria, grande Milan, seconda vittoria consecutiva dopo quella a Lecce, 2-0 Milan, che Milan, grande Milan, un'altra vittoria, ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo continuare così cavolo. E sta per finire la partita a Milan-Roma, per ora 2-0 risultato con il gol di Reibic, Cianoglu, esulto così perché veramente questa stagione, secondo me dopo la ripresa, il Milan ha qualcosa in più delle altre squadre, cioè, secondo me questa partita se l'avessimo giocata subito dopo, prima del coronavirus, l'avremmo persa, perché la Roma era in una gran forma, il Milan no, mentre adesso il Milan è in gran forma, anche senza Ibrahimović, il Milan riesce a giocare bene, a vincere, e a segnare soprattutto. Adesso, nel primo tempo, è ovviamente stata più equilibrata, la Roma, anche riscato, Dzeko ha fallito un'occasione colossale, di testa, di solito, da quella posizione lui non sbaglia mai, magari si vede che era un po' stanco e non era lucidissimo, si aspettava un intervento del difensore, ma comunque, di solito Dzeko non sbaglia. Ed ha consigliato al Milan di restare solo 0-0, poi nel secondo tempo, diciamo la verità, non c'è stata partita, il Milan ha giocato molto meglio, era sempre in area della Roma, la Roma non ha mai avuto occasioni colossali, il Milan invece ha continuato ad attaccare, più di due o tre tiri da fuori, e poi, dopo anche un'incorsione di Cialanoglu, siamo riusciti, grazie a degli scambi, a tiro di Cassidy, semi rovesciato, ha impegnato Mirante, sulla ribattuta subito Rebic, tiro secchissimo, parata, zappacosta, palo, e ritorna Rebic, che segna l'1-0. Lì veramente ho risultato un sacco, perché questa vittoria è fondamentale per il Milan, poi anche il rigore di Cialanoglu nel finale, ma veramente una partita, una vittoria importantissima, che ovviamente la Champions è ancora difficilissima, non difficile, difficilissima, ma il Milan c'è. Questo è l'importante, l'importante è sapere che si può fare bene, che anche i giocatori come Cialanoglu oggi hanno giocato bene, anche la volta scorsa, anche Paqueta non è stato male, Salameckers mi è piaciuto molto, perché è entrato e subito correva, Leao, che comunque non c'era troppo, oggi è entrato e ha tenuto palla su, la difesa tiene, i due terzini in conti sta giocando bene, e i centrali mi piacciono molto. Secondo me la squadra gira bene, e soprattutto in queste due partite stiamo facendo veramente bene, sono veramente contento, anche perché vinciamo, magari a volte facevamo male, poi venivamo uccellati negli ultimi minuti, adesso abbiamo vinto, perfetto veramente, una cosa, cioè veramente meglio di così quest'anno al Milan ha fatto poche volte, devo dire la verità, due vittorie di fila al Milan quest'anno, non so se le ha mai fatte, e farle così, giocando bene, e una anche con una big, perché la Roma è una big comunque, e con legge comunque 4-1 di la gare, ci sta tanta roba, e appunto sono contento, anche per dare speranza appunto, la speranza di riprovarci almeno, quantomeno provarci, magari l'Atalanta, non so, il calo di concentrazione, il Milan riesce a vincerle tutte, e magari, non so, c'è speranza, comunque nel secondo tempo il Milan niente da dire, anche perché, consideriamo nel secondo tempo il Milan ha giocato bene, ma la Roma era molto stanca, ovviamente la Roma ha giocato due giorni dopo il Milan, quindi era già più affaticata, ha avuto meno giorni di riposo, vedi Dzeko, che è l'uomo simbolo della Roma, che aveva fatto doppietta contro la Samp, è dovuto uscire al 60esimo, perché era stanco, e ci sta, perché si gioca a 32 gradi, ovviamente si fanno i cooling break, ma è veramente tosto giocare a 32 gradi, soprattutto a questi ritmi, perché, non a questi ritmi, ma a questi livelli, con la Roma che si gioca la Champions, il Milan che si gioca comunque l'Europa League, Barra Champions, la Champions, comunque è difficile giocare, e il Milan l'ha spuntata stavolta, sono veramente contento, e ragazzi, dirmi qui sotto cosa ne pensate della partita, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, dico il supporto, condividete il video, e noi ci vediamo in un prossimo video, bye ragazzi!